La Hyundai Avenue cattura subito l'attenzione grazie alle sue particolari proporzioni, misura infatti 4 metri di lunghezza che insieme a 1,56 m di altezza le donano un look caratteristico. I designers di Hyundai hanno lavorato con linee tese e spigoli vivi, dando risalto alle direttrici orizzontali per donarle un vigore degno di un SUV. Caratteristico il passaruota, ben marcato, ed anche la rientranza lungo tutto il portellone. La firma luminosa è composta da fari anteriori su due livelli e luci diurne di forma squadrata che la rendono subito distinguibile anche di notte. Entrando nell'abitacolo, l'altezza si traduce in un ottimo utilizzo delle dimensioni. Infatti, forte anche del passo generoso, lo spazio per i passeggeri sorprende, rendendo l'ambiente ampio e confortevole. Anche il bagagliaio, con i suoi 530 litri, risulta adeguato per la sua categoria. La plancia della Hyundai Venue ha molto in comune con le Hyundai di ultima generazione, grazie allo schermo da 8 pollici a sbalzo rispetto alla console, sotto al quale cattura l'attenzione e il selettore delle modalità di guida, che lascia immaginare ad una trazione integrale, smentita però dal motore benzina a quattro cilindri turbo di un litro e sei, dalla potenza non ancora dichiarata, ma dalla trazione solo anteriore.